Tutti questi chissà verranno spassati via da un'unica certezza, il nome della persona che vince Masterchef. Giorgio, a te l'onore. Il vincitore dell'undicesima edizione di Masterchef Italia è... E' un monso rainbow. Giorgio! 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 Signorino Gorrassi! Bravo! Avrai un grande futuro! Giorgio! Mi ha tratto a piangere con un madre a tuo padre! Giorgio! In testa te le devi mettere adesso! Giorgio! 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 Giorgio!